Una tazzina di caffè al banco costa ormai non meno di un euro. Il prezzo media si aggira su 1,20 ma ci sono picchi fino a 1,40 centesimi e c'è il serio rischio che possa aumentare ancora. E in questi mesi importatori e torrefattori lanciano l'allarme. Se il prezzo del cacao continua ad aumentare, ad accorgersene sono soprattutto i consumatori. Il caffè di certo non diminuisce, ma le politiche di contenimento dei prezzi variano a seconda dei produttori. A Napoli, dove il momento della pausa caffè è storicamente considerato vero e proprio culto, il prezzo medio di una tazzina resta comunque inferiore alla media nazionale italiana. Abbiamo chiesto a clienti e commercianti delle caffetterie in città. Diciamo che ci sono due elementi, l'abbondanza con cui Napoli sta vivendo questa ondata di turismo e dall'altro lato il rincaro dei prezzi e dei costi alla fonte. Penso che ancora poco, perché con l'aumento del prezzo del caffè, con l'aumento del prezzo gestionale del locale, la somma che fa il totale, come diceva Antonio De Cultis in Alte Rodo, non ci va a uscire più. Questa è la situazione qua a Napoli, però se vai in Alte Italia che il caffè costa di più, io ho visto 1,82 euro pure. Il caffè lo trovo a tutti i prezzi, dai 90 a 1,20 euro, 1,50 euro. Un euro può andare bene, di più secondo me è esagerato. Il caffè ha il suo costo come tante cose che sono aumentate, è aumentato anche il caffè. Se pensi che l'olio costa 10 euro in una bottiglia d'olio, prima costava 5-6 euro.